Non amo questi sondaggi, non amo queste classifiche, non credo che ci sia qualcuno che possa fare una classifica di un sindaco. La classifica del sindaco lo fa il rapporto che il sindaco ha ogni giorno col suo popolo e poi c'è un'unica classifica che conta, è quando fai le elezioni. Quando fai le elezioni c'è la classifica che conta perché sono i cittadini che decidono chi eleggere come loro rappresentante protempore. Io in questi anni non mi sono mai entusiasmato, l'ho detto tante volte, quando mi davano primo non mi sono mai depresso quando mi danno ultimo e ve lo dico con tanta sincerità senza che nessuno si offende, non ci credo a queste statistiche, né quando ti danno primo né quando ti danno perché i parametri che vengono utilizzati per fare questi sondaggi secondo me non sono parametri che colgono fino in fondo qual è il tema del rapporto tra i rappresentanti e i rappresentati e poi ci sono sempre le letture di questi dati che andrebbero fatti in modo più approfondito. Io quindi non ci sto dietro proprio.